Andrea, controlli dei carabinieri per una Pasqua sicura. Due denunce, sei giovani segnalati alla Prefettura, 11 contravvenzioni. I carabinieri di Andrea, durante i giorni di festa per la Santa Pasqua, hanno intensificato i controlli con massimo impiego di uomini e mezzi, al fine di garantire alla cittadinanza la tranquillità necessaria per trascorrere nel migliore dei modi il weekend. L'attività preventiva e repressiva, svolta da 40 militari su 20 veicoli, ha permesso di identificare 177 persone a bordo di 120 mezzi, di contestare 11 contravvenzioni al Codice della Strada, nonché di ritirare tre carte di circolazione. L'attività finalizzata al contrasto del micro spaccio di sostanze stupefacenti ha consentito di deferire in stato di libertà due ventunenni andriesi. Sei giovanissimi inoltre tra i 20 e i 33 anni, fermati nella zona di Castel del Monte, sono stati segnalati alla Prefettura di Barletta quali consumatori di stupefacenti, poiché trovati in possesso di una dose a testa tra cocaina e hashish. Non ci sono state problematiche in ordine di reati predatori, nonostante il notevole flusso turistico. Biceglie aveva cocaina in tasca e oltre 1000 euro a casa, 38enne in manette. I carabinieri di Biceglie hanno fermato un 38enne del luogo e noto alle forze dell'ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nascondeva nel giubbotto cocaina e quasi 1200 euro in casa. I militari, insospettiti del suo comportamento e notato l'uomo cercare di liberarsi di un sacchetto, sono intervenuti. Dopo la scoperta della droga in suo possesso, hanno provveduto alla perquisizione dell'abitazione. Il 38enne è stato portato in carcere. Street Food Festival a Bari Questa mattina alle ore 11.30, presso il comune di Bari, c'è stata una conferenza stampa per presentare Street Eat, il primo festival itinerante dedicato al cibo di qualità su ruote. Street Eat arriva per la prima volta a Bari presso Torre Quetta, con 14 food truck provenienti da tutta Italia, di altissimo designer e gusto, allestiti come vere e proprie cucine mobili. In conferenza erano presenti Carla Palone, assessore alle attività produttive e commercio del comune di Bari, Federico Trotta, ideatore del festival, Manuela Lenoci, partner Tappa Barese Street Festival, effetti collaterali eventi. Lo Street Food Truck Festival è un evento di tre giorni dove il cibo è il protagonista assoluto. Non solo grazie ai piaceri del palato, ma anche ad una serie di eventi collaterali come workshop, presentazioni, musica e intrattenimento. L'evento è organizzato da Berli Art Promotion, storico promoter di concerti e spettacoli dal 1979 e da Buono Food & Events, giovane realtà che opera nell'ambito del food events specializzata nella promozione di piccoli e medi produttori artigianali. Si parte venerdì dalle ore 16 fino a luna di notte, si prosegue sabato dalle ore 11 del mattino a luna di notte e si chiude domenica dalle ore 11 del mattino a luna di notte.